Bene, oggi è il 26 decennario del 2010, ora mi devo continuare a cambiare l'anno. Questa è una bella nevicada, una nevicada di cennaio, speriamo che sia la prima e l'ultima di questo cennaio. Già vedete un'oretta, un paio d'ore, quanta neve si è accumulata. No, grazie, preferisco vederlo da dietro il vetro, perché si apprezza meglio. Adesso Marino per voi andrà fuori a fare delle belle riprese. E poi faremo il pupazzo, se continua così il materiale per farlo ce l'ho. No, la montagna del Gran Sasso manco si vede. Ma lo vedete bene i fiocchi, come cascano? Sono enormi. Ma intanto direi che è molto difficile poter affermare di conoscere pienamente i nostri figli. Forse non dedichiamo loro sufficiente tempo per capire cosa realmente gli passa per la mente e per il cuore. Però la sua magia, Marino, dai. È vero. Vabbè, vuoi proprio che usciamo fuori? E usciamo fuori. Guarda, senti che aria. Respira, l'aria fredda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Cos'è? Cos'è? Oddio. Cos'è? Guarda come fuma il nostro cammino. Andino, ti dà tra le mani. Sto' ringitrando. Andino, che stai gaffando? Tronzo. Oddio, mi casco. Marino, aiutami. Sei scemo. Mi sente tutto. Ma che vuoi che il 26 decennario l'accento scopra che io sono? Pulisci il mucco che sta su casa tutta guanda. No, ho messo crema perché tengo una bolla. Ma tutto mi vuole far ricordare di questo giorno. Guarda che bello. Grazie a tutti.